musica ok, facciamo la daily logicamente, come vedete, si vedono qua anche i diamanti in mappa ma penso che lo conoscete tutti e oltre che nel radar facciamo una bella cosina mettiamo magari un po' di musica per fare più veloce ho attivato lo storm tanto qua non ha fastidio a nessuno che ho la mappa e poi non guardo sto guardando solo da radar che mi andava in buona e sbagliata ora andiamo a prendere prima quello in basso quindi ci siamo qua boom anche carino non ci siamo qua non ci siamo qua non ci siamo qua non ci siamo qua e poi adesso sinistra andiamo dritti andiamo a prendere la è un po' più semplice andiamo giù non ci siamo qua 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 eh musul non ci bibir Ah, io no, vediamo un po', vediamo un po' dove sono la... Oh! Ah, io no, vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.